L'Italia e gli italiani L'Italia e gli italiani hanno in sé la dote della creatività e la dote del coraggio. Qui dentro si ricorda la vita in comune di Meucci e di Garibaldi, due italiani che furono creativi e coraggiosi. Creativi entrambi, forse più coraggioso Garibaldi, ma chi lo sa, forse coraggioso fu anche Meucci che lasciò l'Italia perché era un perseguitato patriota. E venne qua, non avendo nulla, ricominciando a vivere, il coraggio di migliaia di italiani che dovettero lasciare l'Italia e che tuttavia hanno continuato a sentirsi italiani, a voler bene al loro paese, anche trovandosi in un posto chiamato Staten Island. E quindi oggi è giusto essere qua. L'Italia e gli italiani hanno in un posto chiamato Staten Island. E quindi oggi è giusto essere qua.